Io ci tengo a dire assessore allo sport, questo è un evento sportivo, devo ringraziare il Turbo Racing Team SD in collaborazione con Azzurra Eventi per aver portato in amminiativo questa bella manifestazione che con molta fatica non ci siamo riusciti. Diciamo che è la prima vera edizione rispetto all'anno scorso, quindi quest'anno vedremo un po' di spettacolo, quindi io vi auguro tanto un buon divertimento, che tutto vada bene sul sicuro e due belle giornate con il Turbo Racing. Va bene, grazie, saluto a tutti. Grazie a tutti.